Tutti i gusti buonasera Campanello Per che ora facciamo? Va benissimo alle 8 e mezza, ci vediamo dopo Ciao, buona serata Oggi ci troviamo nel regno di Mirko, giusto? Siamo a casa mia Siamo a casa di Mirko Allora, dove precisamente? Ricordiamolo la gente che ci guarda Via Rovigia 2830 Verona Pizzeria? Tutti i gusti Pizzeria, tutti i gusti, la qualità Ma voi ditela, come facciamo a saperlo? Beh, facciamo vedere adesso Mirko come si fa una buona pizza Ma poi per sapere bene dovete venire ad assaggiarla Esatto Quindi venite, chiedete di Mirko Mirko è lì e quindi vi saluterà e vi racconterà un po' quella storia della pizzeria Le bellezze, gli ingredienti, via Noi partiamo direi Partiamo Allora, che pizza proponiamo oggi Mirko? Oggi facciamo una misto funghi, salsiccia dolce e scamorza cubetti Attenzione, misto, vabbè, ho visto la scamorza, l'assaggio un pezzettino Sì, vedo Mamma mia Ma misto funghi, cosa vuol dire? Misto funghi, allora, di solito ci sono dei misto funghi già preparati Però io preferisco partire da ogni singolo prodotto e faccio un misto funghi Ok Tra virgoletti, diciamo, fatto in casa In questo caso, quindi, cosa mettiamo? Allora Abbiamo funghi chiodini Perfetto Dei funghi champignon Sì E dei porcini Fantastico, mamma mia La salsiccia, pasta lucanica trentina Ma è già qua Scamorza fumicata e ovviamente pomodoro mozzarella Pomodoro? Che tipo di pomodoro viene utilizzato? Pomodoro è una polpa non lavorata, non metto neanche condita Fantastico, fantastico Quindi parliamo di qualità, ragazzi Cioè, quando si parla di qualità, si parla di avere ingredienti buoni Senza bisogno di toccarli troppo, di aggiungere polpa Semplicemente polpa pura Non li faccio, non li saporisco appunto Bellissimo, bellissimo Grande cosa, grande scelta Allora, abbiamo tutto, giusto? Abbiamo la pizza, che è la nostra ricetta principale di tutto Esatto Hanno visto già come farla, già al contest dell'Amarone Tanti stanno partecipando, ma continuate a mandarci le pizze Adesso iniziamo a far vedere un po' come si fa questa pizza Esatto, qui stiamo parlando di pizza tonda Pizza tonda Perché nella prima puntata siamo andati con una pizza in teglia Perfetto Allora, Mirko, partiamo a far vedere come si tira la pizza Ok, abbiamo qui le nostre panette di pizza Panette Ok 200-220 grammi Benissimo, quindi una pallina come questa Va sui 200-220 grammi Bellissimo Io pensavo meno, invece 220 grammi è una bella porzione C'è uno che mangia una bella pizza di questa C'è chi ne fa di più Certo Bellissimo Beh, allora Mirko, che tipo di farina utilizziamo per fare questa pizza? Utilizziamo una 0-0 Ok Classica per pizza Acqua, lievito Perfetto Sale Quindi una cosa naturale buona E olio extravergine Cioè, parliamo proprio di qualità Dall'inizio, dall'impasto all'ingadietto Però adesso forse è ora di far vedere come si fa Cosa dici? Facciamo una pizza Allora, raccontiamo un po' la modalità di come si tira una pizza Perché sembra facile, ma non lo è Allora, prendiamo la nostra panetta, la mettiamo in farina Abbondante farina, quindi Sì, sempre abbondante farina E cominciamo a schiacciare il centro Guardate come si apre, ragazzi, è meraviglioso Da cominciare ad allargarla Guardate come si apre, è una cosa meravigliosa Semplicemente con la punta delle mani, inizialmente, giusto Lasciando il bordino Eh sì Voglio provarci il più dopo, non ce la farò, Mirko, te lo dico Poi diamo una mano Quindi movimento Esatto Andiamo un attimo ad allargare Fantastico E poi la tiriamo fuori da qua Fantastico Ma scuta La pizza che otteniamo sarà una pizza morbida È una pizza di quelle croccanti in bocca Qua abbiamo del grasso presente No Però comunque è una cottura veloce, giusto Che mi permette di avere una pizza che rimane di quelle Cioè, quella è la particolarità della vostra pizza Particolarità, vabbè, a parte i prodotti Per carità Che sono molto semplici E lì abbiamo già detto che è il top Esatto Abbiamo una cottura a forno abbastanza alta Benissimo Quindi una cosa che in casa si fa molto difficilmente Perché abbiamo dei forni in casa che non arrivano a certa temperatura Il mio scoppierebbe se lo metto a temperatura alta Scoppia a casa e tutto E forno alto, cottura sui 3-4 minuti Perfetto Abbiamo già la pizza Mamma mia, non vedo l'ora di assaggiarla Allora, adesso andiamo a farcire la pizza, giusto Esatto Partiamo dall'ingrediente di qualità Di base Che è il pomodoro, di base Pomodoro Pan Al centro Guardate il movimento del cucchiaio Molto importante il movimento del cucchiaio Lasci anche qua un leggero strato che è la crosta, giusto Esatto Perfetto Una volta messo questo, il pomodoro Passiamo la mozzarella Subito dopo Perfetto Questa è una mozzarella già sfilacciata, giusto No, questa la sfilacciamo noi Arriva in filoni Quindi avete Ma nonna mia, quindi ragazzi Perché utilizzare una mozzarella così Piuttosto che una di quelle che ci trovano immerse nell'acqua C'è una differenza secondo te? Certo Allora, questa è una mozzarella Priva di acqua Quando arriva Ok È un po' umida, ovviamente Perché è sempre una mozzarella Ma è sempre priva di acqua Perché se no Andrebbe a inacquare tantissimo la nostra pizza Perfetto Sono mozzarella fatte apposta per la pizza Quindi a casa consigliamo nel caso Uno di venire qua a assaggiarla senza farsela Che delle volte si fa prima Ma se volete farvela sicuramente utilizzare una mozzarella Che non sia di quelle confezionate nell'acqua Perché lascerebbe troppo liquido Esatto Ok Nascerebbe tanto liquido Molto bene Allora, pomodoro Mozzarella ce l'abbiamo Adesso iniziamo con Cominciamo con i funghi Mamma mia Ci facciamo la nostra Fantastico Trissi di funghi Quindi se io volessi aggiungere nel caso altri funghi Posso anche metterci giusto altri funghi? Qualsiasi Benissimo A piacimento sempre della persona Che meraviglia Quando nasce questa pizzeria Mirko? Questa pizzeria nasce nel 2005 2005 mamma mia Quindi ha comunque tanti anni, vero? Abbastanza Abbastanza di Molto giovane diciamo Ma dai Quindi ti trovi qua È un mondo tuo da sempre Eh sì Fantastico E Diciamo Avete pizzeria da sporto giusto? Esatto Quindi principalmente il vostro business è quello della sporto da portare Quello della sporto Quanti motorini avete? Nove scooter Nove scooter che escono fuori Mamma mia ragazzi Non è facile gestire gli scooter Pioggia, non pioggia Pioggia, non pioggia Quindi in ogni caso ti arriva la pizza Sì Nevica, piove Neve no Buon, perfetto Neve no Bene Mettiamo adesso Listo funghi l'abbiamo fatto Mettiamo la nostra salsiccia Ragazzi la salsiccia l'ho assaggiata Top Benissimo Io ho usato già un profumo che Pensa te non è ancora cotta Immagino quando è cotta Benissimo Immagino quando è cotta E per ultima Perfetto Mettiamo la scamorza La scamorza che ho assaggiato ed è buonissima Può accaduto dappertutto Fantastico Ragazzi guardate che meraviglia questa Perfetto Guardate che top Abbiamo tutto Noi adesso quindi andiamo ad infornarla Mamma senti che profumo Mirko ci siamo eh La pizza è pronta La pizza è pronta Ci siamo Mamma senti che roba Wow ragazzi Voilà Che profumo Salsiccia il porcino La scamorza Qua c'è tutto Beh direi che ci siamo Cosa facciamo adesso? Adesso la consegniamo a casa Consegniamola allora Perfetto Ok E allora io direi ragazzi Guardateci Imparate a fare la pizza E se non volete venite a mangiarla proprio qua da Mirko Tutti i gusti di Verona Esatto E salutiamoli Mi raccomando State con noi E allora io direi ragazzi